SUV sportivo va bene, ma meglio se alla spina. Da sempre Audi e Quattro Anelli sono sinonimo di evoluzione e sportività al servizio del cliente, che di solito rimane fidelizzato negli anni. Su questi concetti si basa la Q3 Sportback Plug-in, un SUV dal design sportivo e accattivante, che ha nella scelta ibrida alla spina la soluzione più pratica ed efficace per il passaggio dal motore termico all'elettrico puro. Ebbene sì, perché l'ibrido plug-in ormai è una scelta quasi obbligata nelle flotte aziendali, ben accettata e consolidata da chi ha a disposizione colonnine per la ricarica in ufficio o a casa, un po' meno per quelli che non ne hanno. Perché è bene ricordare che non basta solo la spina per consumare meno. Ne sanno qualcosa tutti coloro che, per policy aziendale, hanno dovuto cambiare auto e, non avendo possibilità di ricarica comoda, usano una plug-in come una normale benzina. Quindi anche Audi Q3, che racchiude sportività ed animo ecologico alla spina, è senz'altro una soluzione ideale per chi vive il SUV di medie dimensioni tutti i giorni in città, ma a patto di avere la batteria carica ed una presa a portata di mano. Basta anche una semplice sciuco per la ricarica notturna. Esteticamente questa versione ibrida non si distingue dalle altre se non per lo sportellino di ricarica e il badge posteriore TFSI-E. L'avvento dell'elettrificazione porta in doti una serie di soluzioni che con il tempo migliorano la piacevolezza d'uso, come ad esempio il controllo di ricondizionare la vettura o controllare lo stato della batteria e della ricarica. Sotto al cofano i 245 CV disponibili consentono di vivere agilmente ogni trasferimento senza necessità di spremere a fondo il motore per effettuare qualche sorpasso. La qualità della vita a bordo rimane paragonabile a quella delle versioni puramente endotermiche, andandole però a surclassare durante i chilometri percorsi in elettrico, avvolti nel silenzio più totale. Un SUV trasversale, ottimo in città, coaudiuvato dall'elettrico per i consumi e dalle dimensioni compatte per svicolare nel traffico e trovare parcheggio. Comodo anche nei viaggi con famiglia a bordo, con possibilità di stivare anche oggetti lunghi e ingombranti, grazie ai sedili posteriori ribaltabili e frazionabili. Nei viaggi autostradali può essere utile attivare solo il motore termico, senza l'ausilio del sistema elettrico, per mantenere una riserva di batteria che può tornare utile una volta raggiunta la meta. Insomma, Q3 Plug-in è un'ibrida evoluta dall'anima sportiva, che per essere sfruttata a pieno, va utilizzata impiegando tutte le caratteristiche disponibili, spina e ricarica elettrica in primis, altrimenti meglio optare per un'ibrida evoluta ma senza spina.